Singapore, otto giorni di nave per andare in Australia, l'Australia percorsa da un campo all'altro, voi immaginatevi una sorta di highway, di autostrada al sud, per buona parte sterrata, tra l'altro lui ha trovato anche la stagione delle piogge, quindi procedeva sul fango, in un territorio completamente inospitale che spesso aveva dei segmenti di strada anche lunghi 500 km in cui non c'era nulla, non c'era un villaggio, non c'era una fontana, tanto è vero che ai 50 kg di bagaglio lui fu costretto a raggiungere 15 kg di talica d'acqua, perché non aveva acqua, per dargli un po' la dimensione anche, come dire, parametrata con i kg di ciò che lui ha compiuto. Arriva poi alla finale del ride, dopo aver percorso tutta l'Australia, si imbarca sul transatlantico e dopo 24 giorni di oceano arriva in Messico. 24 giorni di oceano. E a quel punto inizia la sua discesa dell'America del Sud, che finisce alla Paz, dopo aver anche superato le Ande in una situazione climatica estrema. A un certo punto incontra i camionisti che gli dicono, tu stai andando a morire, sei consapevole che stai andando a morire, ma lui aveva in testa, vi aveva la destinazione. Io come ho conosciuto la storia di Cibero? L'ho conosciuta grazie all'architetto Roberto Pirdis. Roberto, per questioni professionali, era stato a Tadasumi e stava sostanzialmente parlando delle possibilità di mobilizzazione di questo piccolo paesino. Ricordiamoci, è un paesino che sta sulla sponde del lago Modeo, tra l'altro dal punto di vista ambientale, una zona veramente bellissima, e Roberto a un certo punto nella sua esposizione dice, beh io pochi giorni fa ho fatto il giro del lago Modeo in bicicletta assieme dai miei amici, c'ero anch'io con lui. Pensate, io ho fatto tanta chilometri di giro. Allora si alzano, signore, io ho fatto il giro del mondo in bicicletta. A quel punto naturalmente Roberto ha cercato di approfondire la storia e mi ha subito telefonato. Vuoi proseguire? No, mi stavo lamentando del fatto che avessi fatto una salitona molto impegnativa di qualche chilometro. Ho detto, io ho fatto questa salita, l'abbiamo fatta con Francesco, era stanchissimo, ero con la lingua a fuori. E lui mi ha detto, io ho fatto il giro del mondo in bicicletta. Quindi quando ho sentito questo, in che senso? Ho chiesto questa cosa qua e lui mi ha detto, sì sì, ho elencato tutte le nazioni. E gli ho detto, aspetti un attimo, me le ripete per favore, io ho trascritto tutto in un fogliettino, ho fatto la fotografia a questo fogliettino e l'ho mandato subito a Francesco. Francesco qua, dobbiamo per forza parlare con il signor Libero. Libero è stato bravissimo perché il suo viaggio l'ha organizzato appunto con il suo amico, con le biciclette, erano due biciclette uguali, però la cosa interessante è che lui si è portato appresso dei quaderni, quindi quotidianamente lui scriveva gli appunti della giornata. Sono 1500 pagine, forse no? Un po' più di 1000. E poi ha portato a considerare una macchina fotografica. Allora non c'erano gli smartphone, ha scelto non le pellicole normali ma le diapositive. Quindi le diapositive hanno anche un'altra definizione, possono essere riprodotte poi su dei pannelli, sui muri, eccetera. Lui queste diapositive le ha scattate anche in maniera quasi professionale. Se vedete poi alcune fotografie hanno proprio un taglio, le alessanti sembrano proprio fatte da dei professionisti. Ha perso una macchina fotografica nel Mekong, quindi ha dovuto acquistarne un'altra e quindi lui andava avanti così acquistava i rullini e continuava a fare le fotografie. Quindi ha perso delle immagini appunto che sono andate nel fiume e niente. Adesso lui ogni tanto le riguarda ricorda per filo e per segno tutto quello che ha fatto, quello che ha vissuto in tutti quei giorni. I chilometri, le tappe, gli abitanti che l'hanno avvolto, una memoria. Adesso ne parliamo subito e stiamo a raccontare le immagini. Come ti senti? Un po' di acqua? Ti rende conto che fino a un paio di sere fa Libero aveva la febbre. A un certo punto io stavo per chiamarti e dire guarda che non abbiamo nulla di tutto. Ma uno che ha fatto 30.000 km di un anno e mezzo, si vuole ben altro per piegarlo. Io quando poi ho conosciuto la storia e abbiamo verificato che la storia era assolutamente vera, la prima cosa di cui non mi capacitavo era come fosse stato possibile che per oltre 40 anni nessuno ne avesse saputo nulla. Ma è possibile che non ci sia stato un collega giornalista, uno scrittore che si sia voluto occupare di questa storia? E in effetti è andata proprio così. Quindi l'idea che questa avalcata incredibile potesse rimanere nella sua memoria, nei suoi conoscenti senza che diventasse, perché io abbiamo fatto una lezione a scuola, è vero che in termini di autostima, di consapevolezza, questa storia entra, incide. Cioè il raccontare che un signore 50 anni fa, privo di ogni forma di strumentazione tecnologica, un giorno, spieghiamo anche perché lui ha deciso di fare questa cosa, lui era già una bella, lui era un po' pugile, lui correva in salita, era un ottimo pulista come il presidente della polisportiva, correva in salita e un giorno incontrò per caso un signore giapponese, tra l'altro sono dovuto, che stava facendo il giro del mondo in bicicletta, era partito da Giappone, lui l'ha incontrato a Champigny, un paese vicino a Buarone, tra l'altro lo ha incontrato a dicembre, mentre sulla zona incontreva una tormenta di niente. Questo gli ha raccontato, io sto facendo il giro del mondo in bicicletta, lui questa cosa la conta come un'opportunità, cioè una prospettiva, a cui non aveva pensato, aveva già fatto diversi giri d'Europa, insomma era un atleto del buon livello. Quindi da quella sera lui ha deciso che avrebbe emulato l'atleta giapponese, ha appiccicato sulla sua cameretta nella casa in cui viveva una mappa e ha iniziato a tracciare le tappe dell'impotente in cucina. La preparazione è curata a tre anni, è stato assecondato e incorreggiato dagli amici di Buarone, dal presidente del circolo ciclistico, da tutti gli amici, ha messo assieme una piccola notte finanziaria e poi nel maggio del 1974, dopo aver sottoposto a Michelle a una serie di test fisici, per essere stato di turmalegra, in piedi e cos'altro, e sono partiti assieme. E io, questa storia quando l'ho conosciuta, sono venuto a trovarlo, ho chiesto di poter avere accesso a questi diari, solo che lui con i suoi diari ha un legame quasi morboso fisico e quindi Roberto ha fotografato ogni pagina del diario. Voi immaginate, gli avi gialliti, spesso consumati dal tempo, a volte consumati anche dalla pioggia, si sono prese tutte le intempiere, che hanno preso la neve nelle Ande, hanno preso i 53 gradi nel deserto dell'Iran, insomma, anche loro hanno vissuto il viaggio e sono in qualche modo, le sono usciti in qualche modo provate da questo viaggio. Allora io ho iniziato nel stato del 2020 a trascrivere e ho passato due estati della mia vita a fare solo questo. Non ci poteva essere, voglio dire, tempo di fare altro, perché li ha scritti in francese, un francese ortograficamente non proprio ortodosso, insomma, e poi alla fine è successo che l'anno scorso io ho mandato il monoscritto all'editore, che si scusa per non poter essere qua, ma purtroppo ha un problema di salute, e Alberto Pinna, che per chi ha, insomma, un po' di conoscenza giornalistica, è stato per 40 anni inviato speciale del Corriere della Sera, quindi un minimo di sensibilità per le notizie che l'anno scorso. Lui ha letto con lo scritto e ha chiamato giorno dopo e mi ha detto questo non è un problema di scritto. E quindi, nonostante Libero pensasse, che è quel sogno di vedere la storia raccontata in un libro, fosse destinato a rimanere in un cassetto, uno dei tanti desideri espressi, alla fine il nostro libro ce l'abbiamo tra le mani e possiamo raccontarla assolutamente. È libero in pieno. Allora, noi facciamo. Io voglio integrare un attimino una cosa di quello che ha detto la parola Pazzuccia Bucciolo, che noi quando ci è stato proposto la presentazione del libro di Libero, lo abbiamo accettato molto volentieri perché? Perché nel nostro piccolo della nostra polisportiva abbiamo un sogno che ha fatto 4.000 km di bicicletta. Oggi no, c'è il padre. È partito da Varese e è arrivato a Caponord. A Caponord ha presentato la nostra maglietta, si è vestito con la nostra maglietta, quindi c'è stato, ed è un nostro socio, quindi quando ci è stata proposta la presentazione del libro, che per noi era un qualcosa di bello. Quindi l'abbiamo accettato ben volentieri. E grazie di essere qui. Magari Roberto fa anche un commento sulle foto. Sì, Libero. Tu riesci a vedere da lì? Discutate perché ho ancora la gola. Altrimenti sono un grande parola. Ho tenuto le diapositive un anno, in parte della pandemia, dove c'è a casa, perché non c'è nulla, non c'è a casa. Quindi poi, quando le sostituite, Libero e Rappi e Cerchi di Agostino sono per lui proprio un ricordo importante. Le ha tenute, le ha presi, le ha abbracciate, come se fosse una cosa preziosa. Adesso diciamo a commentare un po' di fotografie. Allora, qui siamo nel giardino, a colpa di Pavo. Sentite tutti? Riuscite a sentirlo? Ecco, un po' di freddo. Sì, c'è il franco, a voi, no? Nel costitore del loro abitato, come sopra la testa, che ora non c'è più. E questo, siamo la vigilia, la parte che sono io, sono un po' di sì, mi prego la madre e anche il mio amico.